altra gara importante questa dell'atleta della FISPES facciamo un grande applauso per le ragazze vedete come corrono anche accompagnate atleti povedenti guardate che forte con l'atleta del fiamme oro 13 e 67 e anche in sesta corsia vedete corrono separate hanno l'accompagnatore grande emozione grande intensità in questa gara dei 100 donne della categoria delle ipovedenti o non vedenti ecco qua Stefano mi permetto di inserirmi come delegato regionale della FISPES la federazione